Oggi non voglio presentarvi gli animali, ma voglio presentarvi i Playmobil. Alla fine del video ricordatevi che vi faccio vedere la mia cartaruga. Adesso io questo non mi ricordo, l'ho preso che praticamente questo è un Playmobil che da un altro succede due cavoli animali, ma non mi ricordo. Questo l'ho preso in un castello che ho, poi tanti anni dopo ve lo farò. E' tipo, ho questi Playmobil, partiamo da questo. Allora, questo è tipo un forzieri per nascondere le cose, diciamo. Poi, dopo ve lo vediamo dentro. Allora, questo è, vediamo tutta la confezione. E' questo è tipo Ghostbusters. Ah, questa è la chiave di questo per aprile, dopo vi faccio vedere come si chiude. Ehm, allora, questo è tipo Ghostbusters. E questi non sono usciti da qua dentro, da un'altra uscina. Questi li trovate a Toys. Mi sa pure questi li trovate a Toys. E poi questa è la scatola della Chiappa Fantasmi. Aspetta, queste sono le foche, vedete? Queste non lo so perché si muovono, forse non si muovono perché sono piccole. Guardate, hanno la bocca al pezzo. Perché non si muovono forse perché sono piccole e ti scappa la mano, ovviamente. E questa è l'addestratore di Kali, mi sa che pure questo l'ho preso a Toys. Non c'entro come... Cioè, vabbè, che ne vogliamo, che c'entra? Allora, questa è l'addestratore dei cani. Allora, avvicinano meglio. Vedete? Con il ramo, per fargli lanciare i cani. Questo è un altro cane. Ho messo con l'aria a caso, vedete che si possono togliere sull'elastici. Questo è un cane. E questo sono i cani. Che è... Questo non si muove, questo è l'erba. Ma adesso, che vi avevo detto, vi faccio vedere proprio da dentro questo coso. Guardate. Qui tipo ci sono le scalpe salire sopra. Questo è quello che guardi da cosa. Questo mi sa che trovo. E qua ci nascondi tipo quelli che hai preso, hai trovato. I cattivi, diciamo. E tipo, li metti così. Guardate. Guardate. Questo sembra proprio al medioevo. Guarda. Vabbè, non si mette. Facciamo finta che non si mette. E dai. E si è messo sempre in pule. Vedete? Come al medioevo. Questo è come la foca. Ha macchie. E questa è. Guardate una scena. Poo. E vabbè, faccio. Non è andato un guaglio dentro. Se no, dovrei essere minuscolo, minuscolo. Vedete che questo burro che li attira. Li attira qua dentro. Tipo una porticina che li mette proprio nel loro posto. Poverini. Questa è scarsa. È scarsa. Ma che ci fa a scarsa? Vabbè. Va fuori ed è scarsa. Cioè, avviso a tutti i ragazzi. Pure ai vandali. Non si va a scarsi quando camminate. Perché se noi ci sporcano i piedi. E diventate animali sporchi della strada. Adesso vi faccio vedere la tartaruga. Adesso vi faccio vedere come si chiude. Questo rubiamo tutto. Chiudiamo questo. Oh, addio. Eh, guardate, c'è un topo. L'avevo visto. Forse c'è un testo. Aspetta. C'ho due esetti, vabbè. Faccio vedere quando mostri il castello. Eh, dov'è la chiave? Dov'è la chiave? Ah, eccola. È questo. Si chiude. Vedete? È tipo una porta, diciamo. Ok. Dove c'è la spada? Meno male. Mi sa che l'avevo lasciata là dentro. Ok. Vabbè. Giusto dopo, alla fine del video. Adesso vi faccio vedere la tartaruga. Il video ve l'ho fatta vedere. Ciao. 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 Ciao.